L'atelier si chiama Atelier Touche Image, che si trova a Chiusi, in provincia di Siena. È il primo atelier total look esclusivo in Europa. Abbiamo all'interno di questa struttura truccatori, parrucchieri, abbigliamento, che poi è un marchio esclusivo tedesco, importato in Italia. È stato un onore, posso dirlo, fare da stilista personale per la dottoressa Maria Cornia in questi due giorni. Poi chiaramente mi ha fatto entrare in un mondo che per me era ancora sconosciuto, il mondo del PNEI, che mi ha sicuramente coinvolto molto. Riuscire ad elaborare lo stress di liberarsi di questo aspetto, sicuramente mi piacerebbe inserirlo anche all'interno di questa struttura, che poi lavora sull'estetica esterna. sentirsi bene dentro ed essere splendidi fuori.